Benvenuti in questo nuovo video da questa porta, l'ingresso alla Guru Suite, chiamiamola così, adesso vi faccio il tour ragazzi, Guru Suite in montagna, questo è il bagno, allora partiamo dall'ingresso, ok, ci sono due ingressi, questo è il primo, entri e si sviluppa la prima camera da letto, non sarà l'unica camera da letto, questo sono io, ciao se mi vedete, Allora, in bagno, molto bello, sempre io, doccia molto bella, ok, e balcone, primo balcone, vi faccio vedere qui la situazione, sta per fare buio l'atmosfera, ok, quindi si entra di là e questo è ciò che arriva, prima camera da letto, Poi, si arriva qui e ci sta un altro bagno che è un po' scomposto, lavandino, doccia, altra grandissima doccia e poi qui ci sono i sanitari, bagnetto, vedete, con water e bidet, molto bello, molto bello, scomposto, Allora, in realtà, questo sono sempre io, ma in realtà lì c'è un altro ingresso con l'armadio, abbiamo messo la valigia, abbiamo bloccato tutto e praticamente si entra qui e dove eravamo prima E qui adesso, andando avanti, vedete, c'è un piccolo salottino, ora, scusate il disordine, ma come sapete, con una bambina piccola, c'è questo bellissimo salottino, qui c'è la tv e qui c'è l'altra camera da letto, ok, e sentite già, qui c'è la pulla e sentite già, Nell'altro balcone, il pezzo forte, che non può mai mancare, qui c'è questo altro balcone, lì, e qui c'è lei, che non può mai mancare, in funzione, oggi l'abbiamo provata, notevole, notevole, con vista, ora sta facendo buio, ed eccola qui, la Guru Suite, in montagna, sulle Dolomite, Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, io credo che sia veramente sfiziosa, molto grande, accogliente, qui ci sono io, allora, il canale, spero che mi vediate, eccomi, il canale andrà avanti, anche nei prossimi giorni, ho programmato tutti i video, state pur tranquilli, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, So che questi video vi piacciono, so che questi video vi piacciono, la tour della Guru Suite sulle Dolomiti, ecco, diamo un riferimento, qui sta facendo buio, adesso io vado, perché credo che mi stanno aspettando, Sta facendo buio, lei, la spegniamo, dai, spegniamola, e noi, ci vediamo, ad un prossimo video, commentate, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao!